No, mi dimentica di togliere lo smalto. Ciao ragazzi, come sto? Penso che ci divertiremo assai. Ma perché mi fecero vestire da monaca? Questa cosa non l'ho capita. Perché una minore dobbiamo prelevare. Ah, i minori li prelevano le monache. Sì, insieme alla polizia. Sì, insieme alla polizia. Due biglietti aerei. Non ci voglio credere. Daniele e Migueluzzo. A New York? Ciao. E ragazzi? Già partiti sono. Dovevi vedere come erano belli vestiti da poliziotti. Quando le ordineranno di seguirli al commissariato, Carmela non farà un fiato. E Nelly si occuperà da vicinità. I minori sempre le suore vanno a prelevarli. Andiamo, eh? A moneta. Tuo figlio Angelo? Già partì col furbo. Speriamo che Nelly e i ragazzi arrivino in tempo. Passano da Dogana e ritirare il bagaglio e ci vuole tempo. Daniele e Migueluzzo ce la possono fare. Vada pure. Minchia. C'è qualcosa che non va? Eccellente. Chi ha un posto di blocco? Mi scusi, tutto a posto. Buon viaggio. Prego, vada pure. E se ci scoprono? Stai calmo, i documenti a posto ci abbiamo. Comportiamoci davvero i poliziotti. Questi minchioni stanno in fila come tutti gli altri, così si fanno scoprire. E di che? In un posto di blocco i poliziotti non si mezzano dietro come la regola. Vi spicciate? Vogliamo andare? Mica alla fila devono fare i poliziotti. E va bene, stati muto. Ah, l'hanno capito finalmente. Ciao colleghi, dove state andate? Prelievo di minore all'aeroporto di Sirenusa. Noi dalla procura di Catania veniamo. Ho un brutto presentimento. Sono troppo nervosi. Buon lavoro, colleghi. Andate pure. Ciao, buon lavoro. Venti per favore. Per poco l'infarsa mi veniva. Ricordati di tenere le mani in tasca. Se si accorgono dello smalto siamo fottuti. Fermiamoci da qualche parte che mi prendo l'acetone. Ma sei scema, già in ritardo siamo. Un attimo ci metto. No, nemmeno un secondo. Devo andare alla toilette. Tu da nessuna parte, vai. Ma io devo fare pipì. Ho detto di no. E allora la faccio qui. Ce l'accompagno io. E va bene, sbrigatemi. E tu non perdere la doccia. Ok. Dai, forza, scendiamo. Accidenti, non ci voleva pronto. Ma stai qua. Muoviti, dai. Aspettate un attimo. Mi si sono slacciate le calze. Non ci riesco a camminare con le calze scese. Sbrigati, ti aspettiamo dentro. Vieni. La finestra è abbastanza grande. Solo Letizia ti sta aspettando fuori. Come la riconosco? È una suora. Non ti puoi sbagliare. Buon giorno all'aeroporto di Sirinuse. La preghiamo di restare in linea. Appena un operatore sarà libero, risponderà la... Vai. Gli operatori non sono al momento di sbagliare. Suor Letizia! Suor Letizia! Ma tu chi sei? Antonia Fortebracci sono. Sei tu la suora che deve venirmi a prendere. Antonia Fortebracci? Ma non dovevi atterrare a Palermo? No, a Sirinuse. Non ci capisco di niente. Tu non sei una suora. Va al diavolo. Aspetta! 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 Dove hai lasciato la macchina che hai affettato? Vero la chiesa. È lì che vi aspetto. Grazie, mamma. A dopo. Andiamo. Minchia, Antonio Fortebracci. Carmela, dove è Antonia? Tu che ci fai qui? Dimmi dove è mia figlia. Dove? Fermati! Lasciami! Non sei, suor Letizia, non sei nemmeno una suora. Ti devi fidare di me. Amica di Topagis. Non mi fido. Antonia! Ehi, dove corre, piccolina? Mi lasci andare! Sta con me la bambina, sta con me! Mi lasci andare, lei è una finta suora. Ti ho detto, ce ne hai i documenti? Carmela, ti com'è la parlare? Altrimenti ti ammazzo qua davanti a tutti. Così la dinastia di Valanzio smetterà di esistere. Avanti! Che aspetti? Spara! Antonio Fortebracci. Dimmi, dov'è Antonia? Antonia se n'è andata. Dove? Lontano da chi può farle del male. E con una suora, la sta portando al sicuro. Una suora? Qua è andato tutto a puttane. Andiamo via. Pronto! Oh mio Dio. Non sarà mica quella suora. Non aspettiamo, Nelly. Pazzo sei. Quale cosa si mettono male? E noi fuori dal gioco siamo. Dobbiamo cambiarci e partire. Tua madre ci sta aspettando, dai. Eh no, eh no, sorella. Lei non c'ha i documenti, la bambina nemmeno. Io che cosa devo fare? Lei non è la suora che doveva venirmi a prendere. Antonia, ti prego, parliamo io e te. Sei una bugiarda, con te non ci voglio parlare. Finiamola. Adesso andiamo al posto di polizia, così possiamo chiarire questa faccenda. Ispettura Costa. No, aspetti. Sorella, gli agenti stanno già portando via la divenanza. Lei è la bambina dove deve venire in quest'ora con noi. In quest'ora posso chiamare mio padre? Tuo padre ha una forte braccia. Arrivederci, venite con noi. Arrivederci. Mi dispiace, io ho tardato perché non riuscivo a trovare parcheggio. Perché quando sono entrata la picciritta non c'era. Forse ancora fuori dall'aeroporto. Andiamo, corre. Papà, fermatevi. Non va bene, non va bene. Valla stare zitta, valla stare zitta. Papà, papà, papà. Papà, papà. Papà, papà. Papà, papà. Papà, papà. Donne forte braccia. E' il mio fratello fortunato. Fortunato, fortunato. Forse meglio camminiamo. Prima che arrivi la polizia. Dai, corri. Voi non lo conoscete, mio padre. E' togno forte braccio, il padrino. Alla stare avuta. Ma... 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 Pensaci tu, mi sono stufato da sentirla gridare. Non ci lasciatemi stare. Ma io scendere. E fermate la macchina. Emma. Ma io scendere. Con questo, la bambina è segale. Non ci lasciatemi stare. Ma io scendere. Fatemi scendere. Io esco, eh. Faccio un salto in paese e torno presto. E come? Non mi dai una mano con gli inviti? Allora, io li scrivo a matita. Ah. E tu che hai una bella scrittura, li ripassi col pennino. Sì, ma non ho tempo adesso. Maria. Dite, signora. Mi tieni qualcosa in caldo per dopo? Sì, signora. Grazie. E come? Non mangiamo insieme? Eh, ti dissi che non ho tempo. Ma? I biglietti. Dove li nascondi, i tuoi segreti, eh? Eh, Migueluzzo? Dove li nascondi? Dove? Dove? Grazie a tutti. Michael Lewis, amore mio, questo è per te. Lui è già l'ossetto, quello che hai chiesto a Gesù Bambino. Bello, eh? Ti piace? E poi c'è una sorpresa. Guarda, guarda qua. C'è un nascondiglio. È bellissimo. Solo Joe, l'ossetto, custodirà i tuoi segreti. Ti piace? Sì. Amore mio, che tortura baciare Vincenzina. Ci riesco solo pensando a te. Non provo niente per lei se non un po' di pena. Tu solo sei l'unico amore della vita mia. Tutto bene andò? Voi bene, avrò lo sportello, cammina. Prendila a bere i piedi. Dai, forza. Mettiamola su. Prendi qui. E i piedi. Non c'è bisogno di legarla e imbavagliarla. Dormerà per ora. Affrettate che c'è ben nuovo un paio d'ora di viaggi. Ti preoccupate. Dove la sta portando? I monti. Deve ci sta l'aria buona. Vincenzino? Eh? Che hai? Che hai sta faccia? Non mi sento bene. Come sentire? Ghiaccia sei. Su di freddo. Daniele e Michaluzzo dove andarono? A fare una commissione per tuo padre. Andarono. Stai seduta. Stai seduta. Eh? Chiamo Maria che ti porto un'aspirina. Mmh. Adesso fottebracci farà quello che vogliamo noi. Mmh. Non è quella bottana di Nelly. Mi pare proprio che è andata da quella parte. Capisti? Sì. No, no. Se l'avvocato non mi fa parlare. Tu devi insistere. Il messaggio per Tonio fa tutte braccia da parte di Nelly. Ti ricordi, Nelly? Mi chiesti perci. La suona non poteva fumare. C'ho una voglia. Le pighi una stecca pure per te. Mi sto chiedendo che minca è successa all'aeropore. Ah, eravate sono. La macchina è qua. Ma dove sono freddi? Beh, ci sono le divise. Non li hanno arrestati. Lo so io dove sono finiti. E tu che ci fai qui? Che è successo? Vieni, vieni. Leggi. 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 Che cos'è? Non lo vedi? Lettere sono. Lettere d'amore tra mi frate e Daniele. Quei due stanno insieme da anni. E mi preso una po' culo. Daniele si fidanzò con mia. Per fare i porci comodi con i frati. Lettere d'amore. Ma che menti fateci? Dove c'è? La verità ti dico. Tu figlio arruso è. E pure Michaluzzo. Leggete, leggete che cosa si scrivevano. Parola d'amore. Che schifo. Tu finchi mascoli, tutte e due arrusi. Muta! Sangue mio sano, eh. Tutte manchiate sono. Daniele, un figlio mio. Non è arruso, chiaro. Sangue malato, eh. Allora, mi raccomando, appena scendi dall'aereo in America, tu mi telefoni così so che è tutto a posto. Sì, sta tranquilla, mamma. E non ti dimenticare di scrivermi al fermo posto che ho tottato. Va bene. Va bene. Signora, tardi, eh. La strada per Palermo è lunga. Sì, sì, lo so. Dobbiamo andare. E mandami una foto, hai capito? Tanto ci vedremo presto. Michaluzzo? Daniele, mi raccomando, eh. Adesso la fida a te. Adesso sei tu che lo devi proteggere. Vita mia, vita mia. Ti voglio bene. Grazie, mamma. Vai, vai. Vai. Non mi sento tranquillo. Quanto manca? Dobbiamo correre o perderemo l'aereo. Lo so che sei preoccupato per tua madre. È tranquillo. Appena ci saremo sistemati, la facciamo venire in America. Non la rivedrà più. Me lo sento. Ma devi smettere di essere così pessimista. È andato tutto bene, no? Non lo so. Ho come un presentimento. Che succede? Scenno. Ah, scenno. Cammina, scendi. Dai, scennete. Forza, cammina la vostra porta. Dove che devi andare? A fare una passeggiata a chiaro di luna? Cammina, vai, vai. Marci, dovete dare spiegazione. Valla sopra. Vai. Cammina. Qualcosa significano quei due biglietti per l'America? Alzate le mani. Rispondete. Arrusi siete? È certo che sogni arrusi. Hai lette le frasi che si sono scambiate questi due fitosi? Tutto il pomeriggio ho vomitato pensando che mi lasciai stuporvertito. Non ci credo. Che stu mi facesti? Voglio sentirtelo dire. Arrusi siete? Allora, risponditi. Che non hai capito bene quello che ho sentito. Arrusi? Quella parola tua, eh? Per mia è amore e basta. L'hai sentito? Sparici. Sparici a tutti tuoi. Sparici a questi tuoi fitosi. Sparaci. Sto vattene a casa, tieni la bocca chiusa. Papà, ma io... Giudico la cazza di bocca! Spendi la macchina e partela dove tua madre non la può vedere. Dai! Non torna a casa con lei. No. Tu resti qua. Stanca sono. Che ci resta a fare? Adesso scopriremo se veramente arrusi sono. Muoviti, forza. Scammi. Muoviti. Briga. Avanti, dai. Cammini. Cammini, forza. Spogliati. 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 Allora, dimostrami che non sei un invertito. Faccia l'amore o ti sparo! Aspetta. Capicci? Bravo. Bravo, Daniele. Facci vedere che vero uomo sei. Che i mirti vero uomini sono. Vai! Guarda quanto è bella quella colombella. No. E tu, Annelle, facci sentire quando sei femmina. Che cosa volete da me? Non mi mettete in mezzo a questa storia! No! Lasciami! No! Vattene! 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 Non ce la faccio. Ma che sto facendo? Non sono una bestia! Se non sei una bestia! E non sei nemmeno un uomo! E allora che minta sei! Arruso sono! Arruso! E io a Michaluzzo lo amo! Lo amo! Vi prego, voglio andare via! Silenzio! Vi prego! Tia, non racconterai a nessuno che usì più. No, che prego! Di lamberto e arruso! Non lo tiro a nessuno! Non erano fecchi nostri. No, che prego! Ancora uno è pronto, io la donna deve bere. Sorda, sei? Ho fame. Pronto? Guarda che tuo figlio Angela domani mette. Tuo figlio se n'è andato. Il fidanzato di tuo figlio la lasciò un mese prima delle nozze e tu fame, sai? Vai a dire alla donna di apparecchiare. Tra dieci minuti mi voglio stare a tavola. E che vuoi? Sei fatto qualcosa a Micheluzzo, a mio figlio. Io come un cane ti ammazzo. Come un cane. Ciao. 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 Ciao.